ciao questo nuovo video voglio dedicare un video a questo numero della storia del west visto che che lo sono riuscito a prendere oggi sono riuscito anche a leggerlo subito che è uscito il numero nuovo il 51 di che si chiama i conquistatori che questo fa che questa serie che prendo che prendo sempre della storia della storia del west e niente che in questo volume che ho voluto magari fare questa serie qua perché ho visto che ho visto che nei primi volumi mia e mi ha piaciuto che è che è molto bella perché il confronto moraia ad altre questa paia anche tutta vorrei a colori po magari essendo ma lei sto e ma è del mare del west però magari capita certi volumi magari come questi qua che magari non sono non sono mai per ho visto che ma lei la storia del west ma lei non è ma lei le trame anche nei volumi ma lei volumi altri volumi ma lei si prende a sergio bonelli magari così dice che magari a non tutti questi storie del west possono piacere però io lavoro come se ho visto che la maggior parte dei delle trame ho visto che però mi stava tipo piacendo però la questa serie qua della storia del west la volevo tipo portare anche al termine anche se esce tipo un volume un volume al mese che adesso siamo arrivati in 51 e per completare la tuta che come se mi sembra che dovrebbe arrivare più o meno ai 70 75 volumi in totale dovrebbe essere 74 76 adesso non mi ricordo bene provo anche vedere la fine anche di questa serie ci vorranno anche altre due anni per completare la tutta però io lo stavo tipo facendo più che altro ma adesso questa trama trama qua come così dice come soggetto e sceneggiatura e sempre di questo qui si chiama gino dato gino d'antonio e i disegni ed è di sono di questo sergio tarquinio tarquinio che anche questi volumi questi volumi ho visto che magari ci mettiamo in mare anche certi tavoli ci metti magari anche un bel po mare a leggere perché c'è tanto ma è anche da leggere proprio visto che come se merita che più che altro magari in questo volume mare palla ma è concentrato ma è nel 1800 più che altro ma è adesso non ricordo bene l'anno poi a 1800 nel 1870 che sono in questa trama sono tra il crescano il fiume misure e le montagne e le montagne rocciose che che in questo come si dice che si ritrova chi magari segue il west in questo volume si ritrova questo qui si chiama ben questo bene questo bene questo bene sto bene mcdonald e questo west hardin che più che magari come se l'ho detto ma è prima questi trami ma che sono anche un po complicate un po mai che magari certe volte devo tornare un attimino indietro a leggerle per capire magari bene quello che mai vogliono mai dire nella trama però più che altro questo mcdonald e questo hardin si 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 aggregano a una come si dice a una specie di banda che questa banda qua faceva tipo come si dice questa banda trafica la tipo il bestiame niente che da questi che cede anche in mezzo c'è anche questa questa ma lei verso la fine c'è anche una contadina che questo mcdonald in altre marei nei vecchi volumi si chi segue marei questo mcdonald si trova anche in molte marei e magari questo qua questo mcdonald che si vede spesso in queste storie del del west che a fine più che altro questi due store mcdonald questo ardine si si aggregano questa banda che trafica va e trafica la col mare col bestiame una volta che sono si aggregano questa questo specie di specie di banda c'è anche di mezzo marei una anche questa donna qua che che certe volte marei non è che marei sono complicati marei appena una volta magari che lo leggi leggi marei certi volumi marei non trovi marei un po non riesci magari col più di tanto trovare un senso marea tra ma però alla fine come si dice magari ritornando marei indietro e leggendo marei certe tavole marei lo si riesce ma è un po a capire quello che volevano mai dire nei volumi po niente che magari più che altro marei in questo volume di queste marei volumi di questa se qua marei ne ho letti marei di migliori però ci poteva marea trama come questa qua del numero 51 i conquistatori marei ci poteva marei del complesso marei ci poteva marei anche anche stare che il 5 luglio dove deve uscire quello nuovo rischia marei si chiama verdi pascoli che c'è sempre la pubblicità specie dietro di nuovo del nuovo volume che ho visto che ultimamente anche questo qua è aumentato di un euro che prima all'inizio costava 6 euro e 90 che adesso ne costa 790 proprio essendo mai anche il volumi iplace almeno marei non costa 890 ci poteva anche stare dopo visto che c'è anche questa così dice questa pubblicità del martin misteri di riedizione del numero del numero 2 che questa fa che magari per chi legge martin misteri magari l'ipoca dice poi martin misteri misteri magari è una serie che magari non che non è che non seguo io niente quello che potevo dire magari di questo volume qua della trama così magari ci poteva ma è anche stare che vorrei vi metto mai la trama magari che trovo magari che possono possono ritrovare mai in giro ma è in desk in descrizione pomeriggi di volumi della sola deve essere ma lei ne ho letti ma lei anche di me di miglior di questo quadro ci potevamo le anche sarò questo volume qua e niente per adesso magari vi saluto e ci vediamo magari più avanti con i miei soliti video di manga o magari sempre questi quadri da edicola magari quelli che i soliti che prendo della sergio del sergio branelli e niente che magari come ogni volume qual si trova si trova sempre ma le cose ma lei notizie ma è sempre in più che volendo magari uno ma lei se lì che magari gli piace ma lei queste storie ma lei deve essere bello ma magari anche leggerle o leggerle queste notizie qua perché impari mai sono notizie in più che mai in più mai su queste proprio sul sul resto così e niente che magari per adesso magari vi saluto ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video e niente ciao